E' una targa di riconoscimento di Francesco che sintetizza quello che ha detto a Pergamena, che ha detto sulla Pergamena, Bitonto o tre confini, scienza, ricerca e innovazione, menzione speciale ai meriti scientifici del professor Francesco Stellaci, cittadino di Bitonto nel mondo. E' cominciata così, o meglio è finita così, con il sindaco Michele Abaticchio che ha premiato il professor Francesco Stellaci come cittadino di Bitonto nel mondo. La prevenzione si è tenuta il 9 ottobre al Teatro Traetta di Bitonto in una bella cornice di pubblico che ha applaudito lo scienziato bitontino per meriti scientifici acclarati sul piano internazionale. Siamo stati compagni di classe all'elementare da Marco Vacca e i suoi successi, noi li sentiamo tutti quelli della classe con cui ci sentiamo ancora, li sentiamo tutti nostri. Per noi Francesco, sin dal primo prestigioso incarico a livello internazionale che ha ricevuto per, che attestava insomma la sua genialità che peraltro era già presente alle scuole elementari, era molto evidente per noi, insomma è stato un riconoscimento per tutti noi, li vogliamo molto bene, qualsiasi cosa gli accade di positivo per noi è motivo di gioia. Ma quanti bitontini abbiamo sparsi nel mondo che non sono profeti qui ma lo sono all'estero? Noi abbiamo una brutta, c'è un brutto andazzo soprattutto sulla nostra generazione, chi se ne va ha fatto comunque bene, indipendentemente dai risultati, nel caso di Francesco e di tantissimi altri fortunatamente hanno fatto bene davvero perché hanno potuto far conoscere al mondo la loro capacità innata di innovare nei settori di riferimento. Poi quelli che restano qua e cercano di fare qualcosa di buono in questa città, insomma invece sono meno valorizzati, ecco perché abbiamo cercato prima col centro tecnologico che si è avviato quest'anno e poi tra massimo due anni avviamo il centro di aggregazione giovanile alla maniera nostra, cioè con un immobile grande, aule lettura nell'ex tribunale di Bitonto dove abbiamo già preso un finanziamento per ristrutturarlo e allestirlo alla grande e cerchiamo di dare uno spazio a tutti questi ragazzi che invece di sentirsi dire ogni giorno che sbagliano a restare qui magari si sentono ancora più protagonisti e valorizzati da questo territorio. Il premio è stato deciso dall'Accademia Vitale Giordano e durante la serata è stato ricordato il piano di studi del professore e di quanto si è diventato un punto di riferimento all'Osanna dove lavora per lo studio delle applicazioni nelle nanotecnologie ai settori medici. Vincere un premio a casa è sempre un'emozione, io nella carriera ne ho vinti tanti di premi, ne ho anche persi però quando vai a ricevere un premio sei contento ma fino a un certo punto perché pensi sempre un po' più al futuro, invece vincerlo a casa è diverso e stare intorno a persone che ti hanno formato, che stanno facendo o hanno fatto esperienze simili alle tue e poi è sempre emozionante. Anche perché ho visto che insomma si è trovato con i professori che l'hanno formato a scuola. Chiaro, chiaro, ti ritrovi con i professori, con gli amici, con la famiglia, è una cosa particolare. Poi diciamo si dice anche nemmo un profeta in patria sua, se riesci invece a essere profeta in patria tua fa sempre piacere. Quanto è importante la ricerca in questo momento soprattutto dove c'è bisogno di trovare nuovi sbocchi? Diciamo che è dall'inizio del secondo dopoguerra che il mondo si è reso conto che la ricerca è un campo di competizione per la ricchezza, cioè i paesi ricchi sono anche i paesi più avanzati nella ricerca e quindi è chiarissimo che i paesi che hanno investito di più nella ricerca hanno avuto dei ritorni economici notevoli ed è per questo che io sono all'estero ma che anche tanti altri sono all'estero perché le ricerche è un po' come nel calcio, ti prendono dovunque pensano che farai bene nella squadra. Comunque è sempre importante avere un appoggio a casa piuttosto che... No, ma questo è chiaro, anche perché la ricerca è un lavoro di creatività e non sei creativo se non stai bene con te stesso e quindi hai bisogno di questo. Qual è stata la prima cosa che ha pensato quando hanno detto hai ricevuto questo premio abitonto? Però deve essere onesto, professore. No, no, sono onesto. Nel mio lavoro si viaggia tanto, la prima cosa ho pensato speriamo di poterci andare, di non avere già un impegno e poi invece sono stati molto flessibili, abbiamo trovato una data molto bella per me per venire e quindi ero contentissimo. Anche perché poi sarà orgoglioso di farlo vedere ai suoi... Chiaro, è chiaro, a tutti quanti. A metterà nel suo studio? Eh sì, per forza. Grazie professore per la sua disponibilità e buon lavoro sempre. Grazie a lei. 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 Grazie a lei.